Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix e mi piace così. Sì, è il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Le donne lo sanno che la prevenzione salva la vita. L'esame della prostata lo farò prima o poi. Hai 50 anni e sembra un bambino che paura devi avere. Eh? Ma cosa aspetti, dai? È semplice, fallo. Dopo i 50 anni non facciamo i bambini, facciamo il controllo della prostata. Metti un baffo a novembre, è il mese della prevenzione dei tumori maschili. Iniziativa promossa da Janssen Oncologi. Informati su Oncovoice.it Quando hai il cioccolato nel cuore, entra nel cuore del cacao. Vanini ha nel cuore il pianeta. Ha nel cuore le persone. Ha nel cuore la qualità, la felicità, il piacere. Vanini nel cuore del cacao. E con Vanini vinci ogni giorno un buono spesa da 100 euro. E contribuisci a donare 100.000 pasti. Scopri di più su ilbuonodelcioccolatovanini.it Sai cosa? C'è sempre il sole con lei. Sempre. Basta un sorriso, un sguardo. Una dolcezza unica, naturale. Ogni momento insieme ha un sapore speciale. Mi fa stare bene. Innamorato, eh? Prugne Sunsweet. Tutto il buono del sole. Ricche di gusto e preziosi nutrienti a portata di mano ogni giorno. Prugne Sunsweet. Innamorate del sole. E tu? Dai peso a cosa ami. Dai forma a chi sei davvero. Dai peso a quello che mangi. Dai forma alla tua vita. Peso forma. La tua vita in forma. Abbiamo tutti bisogno di qualcosa. Qualcuno su cui contare. Per l'incontinenza. Io conto su serenity. Conto sull'assorbenza. Sulla discrezione. Sul comfort. Conto sulla serenità. Serenity. Io ci conto. Scopri nella gamma Serenity un prodotto per la tua esigenza. San Martino. Che spettacolo quando cucino. San Martino. Che spettacolo quando cucino. Un dolce canto affagliato Che mi dice spero anche tu. E Natale non soffrire più. Tanti auguri a tutti gli amici delle riunite. A Natale bambini e ragazzi del comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino vorrebbero tutti lo stesso regalo. Un futuro. Oggi quasi il 90% di bambini e ragazzi guarisce. Non è abbastanza. Insieme possiamo guarire un bambino in più. Sostieni il comitato con i regali solidali e le raccolte pubbliche di fondi. Visita il sito comitato marialetiziaverga.it È Natale. Guarda il futuro negli occhi con noi. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.